Siamo allo stand Sharp dell'IFA di Berlino 2010 e le parole d'ordine qua sono due, sono Quattron e 3D. Quattron sono i nuovi televisori della serie Aquos di Sharp, già presentati tempo fa nella versione 2D, che vengono proprio nell'occasione della fiera berlinese proposte anche in versione 3D. Ecco, siamo proprio qua allo stand e vediamo alcuni visitatori dotati di occhialini attivi che guardano lo schermo. Nella fattispecie il modello che resto qua è in funzione, è un 60 pollici, a diagonale è di 152 cm, perciò è dell'LC60 LE92 5E. Tutto qui.